Come è la firma della Convenzione? Come è la firma della Convenzione? Io credo che siano sicuramente positivi perché con il Perugia Calcio noi abbiamo intrattenuto in questi mesi di lavoro rapporti proficui. 5 anni, 250 mila euro di contributo annuale da parte del Comune di Perugia, però tutta la manutenzione straordinaria, la manutenzione ordinaria a carico del Perugia Calcio. Perugia Calcio che avrà anche la possibilità di poter utilizzare al di fuori naturalmente degli eventi agonistici sportivi, degli spettacoli di carattere culturale, di carattere musicale. Per cui credo che questo sia un fatto importante e anche un'apertura di credito nei confronti di questa società che si è dimostrata particolarmente seria. Per cui noi siamo contenti. Da un punto di vista sportivo la squadra sta andando bene, per cui incruciamo le dita in bocca al lupo. Abbiamo firmato una convenzione che è importante credo per il Perugia Calcio perché conferma i buonissimi, anzi ottimi rapporti esistenti tra la nostra società e il Comune di Perugia. È una convenzione che prevede soprattutto del nostro ITER un intervento nella parte dedicata al settore giovanile, alle strutture, perché lì oltre ad avere una valenza sportiva che riguarda il futuro del Perugia Calcio ha anche una valenza sociale di impatto sul territorio, quindi è un intervento di soldi che verranno spesi per far sì che la comunità di Perugia e i giovani di Perugia abbiano dei luoghi adatti dove praticare lo sport. Grazie.